Dispiace non averla vinta perché si sarebbe meritato ampiamente di vincerla, però la cosa che più conta è che la squadra giochi su questi livelli perché è un patrimonio importante giocare, creare tutte queste occasioni, avere questa grande velocità di esecuzione, questa velocità. Poi purtroppo la partita si è pareggiata, dispiace molto perché avevamo la partita in pugno, però commentare una partita partendo dal risultato oggi sinceramente non si rende il giusto merito ai ragazzi che hanno fatto una gara straordinaria, anche come livello spettacolare perché abbiamo fatto reazioni straordinarie. Ho certamente non fatto un buon primo tempo, il Cesena ci ha aggredito, noi siamo stati un po' passivi, abbiamo fatto quello che non dovevamo fare, cosa che abbiamo fatto molto bene al secondo tempo, i ragazzi sono stati bravi a capire quello che non andava e hanno fatto benissimo secondo me al secondo tempo dove abbiamo fatto la gara che dovevamo fare dall'inizio. Quindi è chiaramente un punto importante, una prestazione che deve darci coraggio ancora di più.